Sai quanto stai pagando i tuoi investimenti? Oggi lo scopriamo insieme in questo video. Bentornato amico sul canale, io sono Davide, sono un consulente finanziario iscritto all'apposito Albo e come tutte le settimane troverai i miei video sul canale, mi raccomando supportami, metti un bel mi piace e condividi e lascia un commento se ti fa piacere. Parliamo oggi di quanto paghi i tuoi investimenti. Perché? Innanzitutto perché è fondamentale ed è importantissimo conoscere quanto stai pagando. Se non sai quanto stai pagando o ti domandi quanto stai pagando, c'è un link in descrizione, puoi fissare una call totalmente gratuita con me e possiamo andare a vedere insieme quanto stai pagando i tuoi investimenti. È di fondamentale importanza sapere quanto costano i tuoi investimenti, quanto costa il tuo consulente finanziario. Perché? Perché sono costi che alla lunga possono essere importanti. Naturalmente nessuno lavora gratis, però perlomeno sapere quanto incidono è una cosa di primaria, come ho detto prima, importanza. Ma perché parliamo di questo oggi? Perché nei mesi scorsi, nelle scorse settimane o comunque in futuro, se avete un intermediario italiano riceverete la MIFID 2. Quindi riceverete l'informativa ex post sui costi e oneri relativi ai servizi di investimento ai sensi dell'articolo 24 paragrafo 4 della direttiva numero bla 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 bla. In questo caso nell'anno 2022 perché prendiamo a riferimento con questa tipologia di video un mio cliente e andiamo a vedere un attimo come leggere la normativa MIFID 2. Come ho detto prima, questo documento è inviato a tutti, però ogni intermediario lo invia in modo diverso. Lo invia come meglio pensa e lo invia anche non in maniera del tutto trasparente, forse perché qualcosa devono nascondere, non lo so. Però voglio cercare di farvi capire quali sono, quali possono essere i campanelli d'allarme che se il vostro documento MIFID 2 ha, potete magari andare a dire, qua è meglio approfondire. Il primo punto è sicuramente capire di quante pagine è il documento. Il nostro documento, quello della mia realtà, è composto da tre, e dico tre, pagine. E fine, semplicissimo. In una pagina c'è l'introduzione, mezza pagina perché sopra c'è l'intestazione, nella seconda pagina i costi, nella terza pagina la leggenda riferita appunto ai costi. Fine, semplicissimo. E dovrebbero essere tutti così, semplici. Peccato che purtroppo non è così. Ci sono, e ho visto personalmente, non voglio fare nomi, delle MIFID 2 di 30 pagine, 20 pagine, addirittura dei documenti che ti spiegano come è andato il mercato quando effettivamente non gliene frega niente a nessuno, o meglio, non gliene deve fregare niente a nessuno in quel documento perché già si inviano altri documenti, c'è il consulente finanziario che vi dice come è andato il mercato o i vostri stessi investimenti. Non capisco il motivo del perché una realtà debba andare a mettere come è andato il mercato, come sono andati gli investimenti, tra l'altro magari investimenti azionari quando uno ha un portafoglio completamente obbligazionario, perché è un copia e incolla, all'interno del MIFID 2. Ecco, se trovate come sono andati gli investimenti, come quanti caffè ha bevuto Powell o la Lagarde la mattina prima di fare la riunione della Federal Reserve della Banca Senale Europea, beh, in quel caso lì un campanello d'allarme me lo chiedo, perché la domanda è, ma perché mi devi mettere così tante? Non è che magari mi vuoi scrivere troppe cose per cercare di ingarbugliarmi dentro all'interno del documento? Due domande me le farei. Il punto 2 è trovare in maniera chiara e semplice i costi. Quali sono questi costi? Li andiamo a vedere insieme prendendo il nostro cliente come esempio. Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento. In questo caso troviamo ad esempio dei costi d'ingresso, ok? Qualora si vogliano fare dei fondi attivi, qualora ci siano dei costi d'ingresso, qui dentro troviamo dei costi d'ingresso. Le spese correnti per le prestazioni di un servizio di investimento? Ecco, in questo caso sono le spese correnti dell'ETF o del fondo. Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento? Ecco, in questo caso rientrano magari i costi di consulenza o altri costi. Dopodiché abbiamo i costi per servizi accessori e costi accessori. All'interno qua abbiamo l'imposta di bollo, il dossier titoli, altri costi extra che comunque sono sempre presenti, o non dico sempre, ma possono essere presenti in un portafoglio di investimento. Il terzo punto è capire l'incidenza media dei costi che abbiamo sostenuto. Prima di proseguire voglio cercare di farvi capire una cosa delicata che può essere fondamentale perché potreste ricadere all'interno. La Mifid 2 tiene in considerazione la giacenza media del portafoglio per calcolare l'incidenza media dei costi. Che cosa significa? Se il primo di gennaio del 2022 abbiamo investito 10.000 euro, abbiamo pagato 100 euro durante l'anno tra costi d'ingresso, tra tutti i costi che abbiamo visto prima, e a scadenza, cioè a scadenza scusate, alla fine dell'anno, il 31-12, il portafoglio ha ancora 10.000 euro, ecco noi abbiamo avuto l'1% di incidenza dei costi. Il nostro costo medio in percentuale è stato l'1%. Ipotizziamo però che il portafoglio e il mercato, gli investimenti, siano andati bene. E quindi i nostri 10.000 euro sono cresciuti in maniera lineare, sarebbe un sogno, fino a 20.000 euro al 31-12 del 2022. Ecco, la giacenza media in questo caso sarebbe stata di 15.000 euro, perché la giacenza media è a metà, più o meno, in media, il portafoglio è stato di 15.000 euro. Ecco, la Mifid come calcola i costi? Com li calcola praticamente dividendo i nostri 100 euro iniziali, ok, su 15.000, quindi in totale abbiamo uno 0,66% di costo. In valore assoluto è uguale, ma l'incidenza è stata completamente diversa. Fondamentale questo da capire perché? Perché se si fanno dei versamenti aggiuntivi, se si fanno dei riscatti parziali, è davvero di fondamentale importanza capire quando sono stati fatti e personalmente il calcolo Mifid non è corretto. Non è corretto perché se, come adesso andiamo a vedere, questo mio cliente è andato ad investire una quantità importante verso la fine dell'anno, beh, la giacenza media cambia, è tutta scombussolata e l'incidenza cambia totalmente. E potrebbe farvi vedere un campanello d'allarme perché magari l'incidenza dei costi è davvero molto più alta, oppure magari il contrario quando ci sono stati dei riscatti verso la fine dell'anno. Adesso andiamo a vedere un caso reale di un mio cliente che in questo caso ha iniziato ad investire con un pack, un semplicissimo pack, 1.000 euro al mese e il primo versamento è stato fatto a novembre, e il primo versamento è stato fatto a novembre, quindi in totale nel 2022 è versato 2.000 euro tra novembre e dicembre. La cosa importante è questa, noi oggi lo andiamo a vedere perché il saldo medio che ci dà la Mifid è di 126 euro. Questo perché? Perché la media dei 365 giorni per i 1.000 e i 2.000 euro che sono stati investiti porta su 365 giorni 126 euro. I costi quali sono stati? 8,71, di cui tra l'altro 6 euro pagati alla banca depositaria perché era per l'apertura del pack e 2,71 euro pagati praticamente tra i costi del fondo per quel poco tempo del 2022. Ecco, se noi andiamo a vedere quanto costano, quanta è stata l'incidenza dei costi sull'investimento, comprese appunto le imposte, è stato di un incredibile 6,87%, e uno dice, cioè, mi sta uccidendo questo investimento, questa soluzione, questo investimento. Beh, attenzione, perché il 6,87 viene calcolato come 8,71 diviso 126,73, ma è ben chiaro che l'incidenza non è quella perché il nostro cliente ha investito 2.000 euro per supportare questi costi all'inizio essendo un pack, quindi se noi andiamo a prendere 2.000 euro il costo è inferiore allo 0,004% circa, quindi è un costo davvero davvero basso, non gli ho inserito costi di ingresso, gli ho azzerato la maggior parte dei costi di management fee, quindi comunque troviamo e capiamo che i nostri costi in realtà sono davvero davvero bassi, però guardando questo documento ci parte un campanello d'allarme, ed è davvero forbiante, ed è questo secondo me il motivo del perché la Mifid 2 è un po' sbagliata, perché non si dovrebbe calcolare in questo modo, a mio modo di vedere, il costo del cliente, forse sarebbe semplicemente meglio metterlo in valore assoluto. Questo perché, arriviamo al quarto punto, che è la fiducia che devi avere con l'intermediario o il consulente finanziario. Questo perché, perché se un mio cliente va da un altro consulente finanziario e legge quello, beh, se il consulente finanziario vuole cercare di portarsi a casa e il cliente gli dice, ma stai scherzando, stai pagando il 6,87%, c'è scritto qua, te lo dice la Mifid, tu lo sapevi? E il cliente dice, cavolo, no, cioè, Davide non me l'ha detto. Eh, certo, non te l'ho detto, a parte che contatta anche me. Però se magari uno vuole, fammi vedere, fammi fare un confronto, ok? Qua c'è bisogno di tanta fiducia nel confronto del consulente finanziario. Quindi, prima di andare a fare delle analisi, ma anche chiamandomi, no? Vedete il rapporto che avete col vostro consulente finanziario. Questo perché io cercherò sempre di essere trasparente, ma è un dato di fatto vedere 6,87%, ok? Quindi, chiamatelo e chiedetegli come mai. Se la motivazione è questa, state tranquilli. Perché comunque, se in realtà avete pagato 8 euro su 2.000, non 8 euro su 120 euro, ok? Perché se pagate 8 euro ogni 120 euro, questo cliente qua è davvero martoriato, davvero tanto. Quindi la fiducia è il quarto punto che dovete riporre anche nel consulente finanziario, che vi legga bene la Mifid, ok? Certo, poi, in caso non ti fidi, vai da un terzo consulente finanziario, in questo caso venite da me con il link in descrizione, e mi dite, il mio consulente mi ha detto che pago 6,85%, ma non è vero per questo. Allora, magari, poi io vi confermo oppure non vi confermo, ok? Quindi questo poi è un altro paio di maniche. Il quarto punto è sicuramente la fiducia, e se ci sono 30 pagine di Mifid 2 e dei numeri un po', oppure non ci sono una riga per capire tutti i numeri, allora in quel caso lì campanelli d'allarme potrebbero esserci. Beh, per qualsiasi cosa, se avete bisogno, il link è in descrizione. Io spero di avervi cercato di fare capire come funziona la Mifid 2. Dovete leggerla, però, perché se vi arriva e la cestinate, non serve a niente. Tanti la cestinano, tanti i miei clienti mi hanno chiamato chiedendomi informazioni, spiegazioni, scusate. Tanti i miei clienti li ho dovuti chiamare io dicendo, guarda che è arrivata la Mifid, c'hai bisogno, sentiamo. Cioè, tanti invece mi hanno detto, mi fido di te, va bene così. Quindi ecco, è importante, leggetela. Un saluto a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.